Nozica Casinelli 3, Honda, Under 24 e 250, PCF Team. Honda e Team Revolution, Open Monomarca Golden Tire. Laura Höllbacher, 61, I'm from Austria, Under 24, Husqvarna, 450 cubic. Team Höllbacher Racing and PZ5 Cobra. Sono tre anni che faccio questo sport e non avevo mai fatto precedentemente cross ma mi piace proprio mettermi in gioco. Ho iniziato da piccola, ho deciso di prendere una moto a 11 anni e da lì non ho più smesso. Iniziavo girando per il prato, avevo creato un piccolo tracciato e da lì abbiamo provato con una moto leggermente più seria. Ho iniziato con le pit bike e poi sono arrivata nel mondo dei motard e mi trovo benissimo. Ho iniziato a raccogliare quando ero 9 anni e ancora questa volta ho raccogliato e mi piace. La competizione tra uomo e donna si sente, la sente soprattutto l'uomo. Competere con gli uomini è bello certamente ma io preferirei comunque una categoria dove confrontarmi con ragazze, quindi del mio stesso livello, magari anche più brave così. Si può sempre migliorare, no? Ma mi trovo benissimo, anzi credo sia un stimolo in più per dare sempre il meglio. E mi dispiace per i maschi che magari mi stanno dietro, ecco. Sarebbe bello avere una categoria solamente femminile a pato che ci siano i numeri. Una bella batteria affolta, una ventina di ragazze sarebbe bellissimo come le ragazze del motocross d'altronde. Mi piacerebbe piacere davvero molto, perché per noi ragazze sarebbe più divertente per noi ragazze. E quando possiamo combattere contro gli altri e quando ci sono molte ragazze in una classe. E qui in Italia ci sono molte ragazze, credo. E questo è bene. Saluto tutti quelli che ci stanno guardando. Bye bye! Ciao!